Buongiorno e benvenuti al webinar efficientare la gestione dei rischi e della continuità operativa attraverso l'uso intelligente della tecnologia. Abbiamo un panel moderato da Alessandro De Felice, presidente ARRA, con due carissimi soci Stefano Barboni, business developer manager Riesco, e Michele Trell, esperto di tecnologie Insurtech e fondatore di Explained. Ricordo ai partecipanti che sono collegati con il proprio audio disattivato e possono interagire con noi tramite la chat e inviare le loro domande ed osservazioni. Vi auguro un buon webinar e lascio ad Alessandro la parola. Grazie Chiara, buongiorno a tutti. Tema del giorno, tema attualissimo, perché cerchiamo di approfondire come la tecnologia e in particolare l'elaborazione del dato che potremmo definire con l'intelligenza artificiale riesce a essere un supporto e addirittura uno strumento esso stesso alla gestione del rischio e appunto alla continuità operativa. Grazie a tutti.